Un grillo, il respiro dell'operatore e della nostra emittente, una sirena in lontananza. Sono i soli rumori che si sentono in città dopo le 22 quando scatti il lockdown voluto dal governo per contrastare il contagio dal coronavirus. È venerdì sera, primo giorno del mini lockdown, e Foggia è deserta. Una fotografia inusuale per una città che soprattutto nel fine settimana è animata dalla movida. Una movida che ieri sera non c'era. Il deserto e il silenzio surreale accompagnano il nostro tour nei luoghi simbolo di Foggia. Quelli più frequentati dai cittadini, dai parchi al centro storico. Nessun trambusto, neanche davanti ai tre arche di via Arpi, uno dei luoghi di ritrovo il venerdì e il sabato sera dalla movida foggiana. Nessun locale aperto. A colorare questa prima notte solo le luci dei lampioni di qualche insegna. Poi, silenzio e deserto.